Dunque, quello che vogliamo fare oggi è provare un po' a mettere in pratica le cose che abbiamo preso sui moduli e sugli oggetti, provando a implementare qualche funzionalità che si basa su quelle classi che poi saranno probabilmente da incrementare, libretto e voto che abbiamo sviluppato insieme come esempio di oggetti. Ok? E quindi pensiamo di lavorare all'interno di un file main e ovviamente all'interno delle classi definite in questo file libretto che abbiamo sviluppato insieme per implementare una serie di funzionalità. Dice, vabbè, dobbiamo gestire, il programma si basa su una classe voto che noi abbiamo, nome, corso, punteggio e data e una classe libretto che gestisce un elenco di voto. La classe libretto deve avere un metodo appenne per il calibriamento degli esami e questa, se non sbaglio, l'avevamo già fatto. Quindi fin qua ci siamo. Dopodiché ci chiede, guarda, implementi queste funzionalità e sviluppa un programma di test nel file testlibretto.py, vabbè, non abbiamo anche auto main, lo possiamo ridominare chiaramente come testlibretto, refactor rename testlibretto, così implementiamo ciò che ci chiede l'esercizio, che come prima cosa deve inserire nel libretto un elenco di 10 oggetti voto a piacere, quindi ci facciamo un libretto con i nostri voti. Qui stiamo ragionando come un programmatore che ha una libreria a disposizione e la vuole semplicemente usare. Quindi noi dobbiamo creare un oggetto di tipo libretto e un oggetto di tipo, 10 oggetti dice il testo, di tipo voto e inserirli in quel libretto lì. Quindi possiamo chiamare una classe lib uguale libretto per costruire un nuovo libretto. Ovviamente quest'istruzione qua non può funzionare perché il libretto è una classe non nota, ma possiamo farci aiutare da PyCharm dicendo mettimi l'import della classe libretto dal modulo voto, in questo caso abbiamo visto una volta scorsa i moduli, il voto è il nome del modulo che ovviamente corrisponde al file voto.py, libretto è il nome dell'oggetto definito nel voto.py che vogliamo importare. E la stessa cosa possiamo fare, quindi possiamo scriverci a noi a mano questo import oppure ci facciamo aiutare da PyCharm per definirlo. Al passaggio successivo è creare dei voti, quindi creiamo il voto 1 come nuovo oggetto della classe voto e la classe voto stessa di nuovo ci facciamo aiutare a importarla e quindi in questo caso l'aggiunge allo stesso import perché ovviamente è un altro nome importato dallo stesso modulo voto. quindi noi stiamo usando le classi della settimana scorsa, però non abbiamo avuto bisogno di guardare le classi, sappiamo semplicemente che sono nel modulo voto e importiamo e le usiamo. Ovviamente creare un nuovo voto significa definire i suoi campi che sono, quali sono i campi della classe voto? Il primo era il nome del corso, mettiamo sempre l'analisi 1 così si ricorda i bei tempi, poi il secondo campo era, adesso qui non abbiamo una documentazione, non abbiamo scritto documentazione per la classe voto, però CFU punteggio lode data, quindi CFU erano 10 CFU, punteggio 28 senza lode, in una certa data, beh questa cosa qua era un esame di due anni fa, quindi diciamo che da 2022 l'abbiamo passato al primo appello, quindi magari era il 30 gennaio o una cosa del genere. Questo è un oggetto vuoto che noi dobbiamo aggiungere al libretto e così abbiamo inserito nel libretto un primo voto nostro e ci chiede di farlo per una decina di voti, magari adesso non ci mettiamo a farlo per 10 volte, di aggiungere al libretto altri voti. Adesso non abbiamo bisogno ogni volta di chiamarli V1, V2, V3, ma possiamo usare voto da parentesi, abbiamo fisica 1, anche questa aveva i suoi bei 10 crediti, lì di solito quando prendiamo 21 va già bene, è lo stesso esame ma era magari il secondo appello, quindi che ne so, poteva essere il 12 di luglio dello stesso anno, poi l'Abb.append un altro voto di, che ne so, analisi 2, questo mi sembra che voi ce l'abbiate da 8, magari è andato bene, avete preso 30 lode, qualche 30 lode dobbiamo metterlo nel libretto, però questo l'anno successivo 2023, 0,2, 15 e così via, adesso ne abbiamo messi 3 anziché 10, diventa ad append passo il riferimento a un oggetto che ho appena creato e non ho più bisogno di avere una variabile V1, V2, V3 o come ne voglio chiamare che si ricordi quella singola variabile che abbiamo aggiunto. Poi cosa dobbiamo fare? Beh, ci chiede di stampare tutti i corsi il cui punteggio è pari a 25. Allora, come facciamo? In questo caso non abbiamo nessuno, quindi dai diamoci il 25 di fisica. Dovremmo, facendo finta di non sapere cosa abbiamo inserito, interrogare il libretto per farci dire quali corsi ha lo punteggio 25. Però in una programmazione oggetti non andiamo a interrogare la proprietà del libretto, ma dovremmo creare un metodo che restituisca i voti con un certo punteggio. Quindi la classe libretto dovrà avere un metodo che ci permetta di estrarre i corsi dato un certo punteggio. E così qua potremmo chiedere alla classe libretto find by punti 25. Anzi il punteggio è fatto di un punteggio di una lode e quindi 25 è false. Ho bisogno di un metodo in cui chiedo al libretto, senti caro libretto, dammi, trovami tutti i corsi i cui punti siano 25 senza lode. E una volta che mi hai dato questo io lo posso stampare. È vero che tecnicamente se io scrivo lib.underscore voti posso vedere la lista dei voti e poi farmi il mio filtro. Però nella programmazione oggetti mi sembra che la ricerca all'interno del libretto spetti al libretto stesso, non sono io che gli vado ad analizzare i dati internamente. Quindi vuol dire che io devo implementare, voglio implementare nella classe libretto questo metodo che ho chiamato con tanta fantasia find by punti mescolando un po' di inglese e un po' di italiano, ma va bene, semplicemente perché in realtà abbiamo chiamato punteggio o punti, anzi chiamiamolo punteggio così usiamo esattamente lo stesso nome che abbiamo per l'attributo, è più chiaro. Vuol dire che nel mio modulo voto nella classe libretto dovrò definire un altro metodo che è appunto il nostro find by punteggio. Essendo un metodo deve ricevere come primo argomento sempre self, per fortuna PyChamp ci aiuta a metterlo perché altrimenti è una dimenticanza abbastanza comune perché tu ti stai concentrando sugli argomenti che gli devi passare, ma in più un metodo ha sempre anche self, il punteggio e la lode. Quindi questo deve andare a cercare all'interno ovviamente di self.voti, o tanti voti, estraggo solo quelli che hanno questo punteggio ed eventualmente questa lode, quindi in cui il campo punteggio e il campo lode coincidono con i valori che ho ricevuto. Questo è facile se vogliamo, ma basterebbe dire ok for voto in self.underscore voti, cosa faccio? Controllo se v.punteggio uguale punteggio e v.lode uguale lode. Di tutti i voti che ho nella mia lista di voti vado a cercare quelli che abbiano lo stesso punteggio richiesto ed eventualmente la stessa lode richiesto nel caso di cui il punteggio sia 30. Qui stiamo quasi per scontato che questa coppia di valori abbia senso, quindi uno non mette la lode al 18. Ecco, cosa li trovo? Quando li ho trovati, cosa faccio? Beh, poiché ne ho più di uno, dovrò costruire un contenitore, una collection che restituisco al chiamante il quale possa poi stamparle o farne cosa vuole fare. A questo punto la domanda che mi faccio è che cosa restituisco al chiamante? Il testo mi dice stampare tutti i corsi, è un campione di ambiguità questo testo, tutti i corsi cioè cosa devo stampare per ciascun costo? Beh, quali sono sono quelli con il punteggio pari 25? Ma di costoro cosa devo stampare? Solo il nome? Il nome e la data? Beh, il punteggio non serve perché in realtà è 25, ma il nome e la data e i crediti? Non lo sappiamo. Ok? Allora ci dobbiamo chiedere qual è il modo più utile, più versatile e più, diciamo così, pronto ad evoluzione future che abbiamo per definire quel metodo. Se l'obiettivo, se dicessimo che questo punto 2 ci chiede di stampare il nome dei corsi, noi potremmo restituire semplicemente una lista dei corsi, vediamo qua su voto, corsi, una lista in cui aggiungo corsi.append b.nome, si chiama corso, si chiama corso? No, si chiamava esame. E poi alla fine di questo ciclo farò un return di corsi. Allora cosa fa questo metodo? Cerca gli esami, trova quelli che hanno il punteggio desiderato e di essi ritorna una lista contenente solamente i nomi, è una lista di stringhe. Quindi in questo caso eseguo il test del libretto, mi stamperà non è questo che devo stampare, scusate non è main, run di test libretto. Ah ok, qui bisogna fare attenzione quando premo run che qua sopra, lui mi sta dicendo che cosa eseguire, portiamoci su file corrente, e mi stampa una lista di stringhe, in questo caso c'è una stringa sola perché uno solo è l'esame in cui avevo preso 25. Giusto? Oppure decidiamo che questo metodo anziché restituire una lista di stringhe con i nomi, perché magari questa volta devo stampare i nomi, un'altra volta devo stampare le date, oppure fare altre operazioni, tanto vale restituire gli oggetti. Quindi in questo caso è più semplice addirittura il codice perché anziché estrarre il nome del corso via punto esame restituisco direttamente l'oggetto. Allora se cambio così ed eseguo il file test libretto, lui mi stamperà sempre una lista, sempre di un elemento, ma questa volta questo elemento lo vediamo da come è stampato dal suo rep, questo elemento è l'intero oggetto voto. Poi se il main vuole stampare solamente il nome, vabbè si va a iterare questa lista e stamperà lui il nome. Quindi al limite faccio, qui ho una lista di oggetti voto, anziché fare print direttamente di questa lista che chiaramente è antiestetico, con le loro parenti di quadro eccetera eccetera, scrivo voti 25 uguale e poi vado a iterare su questa lista voti 25. Forvi in voti 25, che c'entra values print v.esame. E a questo punto mi stampa il nome dell'esame senza neanche le virgolette, le parentesi che mi stampava prima. Quindi l'estetica me la gestisco io. Ho i dati, quindi due lezioni che apprendiamo da questo semplice metodo è, uno, quando è possibile cercare di passare ai metodi, passare a ricevere degli oggetti e non dei valori sfusi. Abbiamo creato un oggetto, lo aggiungiamo con l'oggetto e non con la stringa, non con l'identificatore numerico eccetera, perché così abbiamo tutte le informazioni che ci servono e il metodo fine by punteggio potrà essere usato anche in contesti più ampi. E quindi nel progettare un metodo non dobbiamo solo limitarci all'esigenza che abbiamo in questo momento, ma cercare di allargare un pochino lo sguardo dicendo qual è la cosa giusta da fare in questo caso, la cosa più utile da fare. E poi una volta che l'abbiamo fatto devo dire che converrebbe anche documentarlo. Abbiamo la possibilità di aprire una stringa di commento, quindi con le triple virgolette subito dopo il nome della funzione per poter descrivere che cosa fa la funzione stessa. Quindi seleziona i soli esami, i soli voti che hanno un punteggio definito. A questo punto poi ho, questo è, ho iniziato già a fare il charm questo template, mi chiede il parametro punteggio che cos'è, è un numero intero, intero che rappresenta il punteggio. La load è true false, diciamo booleano che indica la presenza della load e il return che ritorna una lista di oggetti di tipo voto che hanno il punteggio corretto, hanno il punteggio specificato. Ci metto 3 secondi in più per scrivere questa documentazione, ma poi tutte le volte che uso questo metodo, basta andarci sopra col mouse, vedete che sotto mi fa vedere la spiegazione. E anche, anche mentre lo uso qui, ma anche mentre lo chiamo, mi richiamo automaticamente la documentazione. Quindi è utile sia sui vari metodi o sulle varie funzioni, sempre spendere quei 10 secondi in più, no? Per scrivere, innanzitutto a noi stessi, ci aiuta a, anche poi a richiamarlo, quel metodo in futuro. Questo C voto libretto significa che il metodo è definito all'interno della classe libretto, i parametri che riceve e poi la spiegazione che abbiamo scritto noi a voce, diciamo così, in linguaggio naturale. E questa era la richiesta del punto 2. Punto 3. Ricercare nel libretto il punteggio di un esame dato il nome del corso. anche qua è una ricerca che funziona al contrario, anziché dare un punteggio e restituire una lista di voti, questa volta ti do un nome e ti chiedo il voto. La differenza rispetto al precedente è che qua di sicuro la ricerca, se ha successo, cioè se ho passato quell'esame, restituisce esattamente un voto. Mentre prima con 25 potevo avere 3 esami e per questo ho pensato di costruire una lista, qui con l'esame di analisi 2 ce n'è uno solo, per definizione, diciamo il nome dell'esame è unico all'interno della mia tabella, all'interno del mio libretto. ok? Quindi il metodo che andrò a implementare dovrà essere leggermente diverso, io potrò fare anche qua un metodo, se usiamo lo stessa, stai bravo, la stessa nomenclatura, un def find by nome esame, e quindi riceve un parametro solo che è il nome dell'esame, e per restituire questo esame lo andrà a cercare tra quelli esistenti, quindi for v in self.underscore voti, if v punto esame uguale esame, return v. Return v nella logica che abbiamo scelto prima di anziché restituirti il punteggio di quell'esame lì, restituiscono l'intero oggetto, così poi ci fai ciò che vuoi. È vero che l'implementazione del punto 3 del nostro esercizio richiede il voto, quindi a un certo punto bisogna prendere l'oggetto voto e estrarre il punteggio, però tanto vale restituire l'oggetto intero e far sì che il programma chiamante estraga il punteggio, così questo stesso metodo può essere usato anche se mi serve la data. Facciamo attenzione che qui siamo stati molto ottimisti sul fatto che l'esame venga trovato, quindi nel nostro esempio cerchiamo di trovare un esame, voto analisi 2, voto analisi 2 uguale lib punto find by esame analisi 2 e quindi potrò stampare, hai preso voto analisi 2, non voto analisi 2 che è l'intero oggetto ma appunto punteggio. Hai preso 30 di anno di 2? Beh, hai preso 30 ma ammetti che avessi preso 30 lode, anzi ho preso 30 lode e lui in realtà mi ha detto che ho preso 30, perché questa print non basta, dovrei controllare se ho preso 30 lode e dovrò scrivere anche e lode, altrimenti non devo scrivere nulla. Non è facile da fare in un'istruzione sola questa cosa qua, dovrò avere un if che sceglie se stamparlo o no, quindi dovrò avere, andiamo prima a vedere se voto analisi 2 punto punteggio è uguale a 30 and voto analisi 2 punto lode uguale true, non c'è bisogno di scrivere uguale true, allora dirò che hai preso 30 lode, altrimenti dirò che hai preso il voto che hai preso senza la lode, quindi in questo caso hai preso 30 lode perché sono andato a intercettarmelo prima, però immaginiamoci che questa cosa qua, adesso vogliamo prendere il voto di analisi 1 e dovremmo fare la stessa cosa, converrebbe fare un metodo dentro la classe voto che ci faccia già questo ragionamento così ogni volta che ci serve il voto in formato stampabile anziché farci questa analisi ci chiamiamo questo metodo, abbiamo trovato un'esigenza che ci, in questo caso è saltata fuori da questo esercizio, da questo punto richiesto ma ci rendiamo conto che è un'esigenza frequente, che non è nella classe voto il metodo STR che tra l'altro non abbiamo definito perché abbiamo usato dentro voto una data class, vedete che la classe voto adesso non ha ancora metodi, l'abbiamo definita come data class quindi ha i metodi predefiniti tra cui il metodo REPR che mi stampa voto aperta parentesi esame uguale eccetera, STR non l'abbiamo ancora definito, però non può essere STR il metodo che implementiamo per stampare il voto, diciamo così scritto in modo leggibile, STR dovrebbe stamparmi l'intera informazione sul voto, un metodo che mi restituisca semplicemente la rappresentazione del voto, se io scrivo V punto punteggio mi danno un'altra cosa, V punto load mi danno un'altra, mi serve un metodo che mi restituisca il voto, il punteggio visualizzabile, visibile. come lo chiamiamo? messaggio punteggio, non mi piace, avete suggerimenti? print punteggio, no perché non voglio che stampi questo metodo, non voglio che sia un metodo che faccia la print, voglio un metodo che restituisca una stringa, quindi se chiamo il metodo print mi sembra quasi che voglio che voglio printare, potrebbe essere un STR punteggio, che fa quell'IF di prima, no? if punteggio uguale 30, non punteggio, self punto punteggio, and self punto load è vero, allora return 30 e load, solamente non scriviamo hai preso, non hai preso eccetera, solamente il messaggio, else return una stringa che sarà self punto punteggio e basta, else due punti, anche qua manteniamo le promesse che ci siamo appena fatti, non facciamo impegni di capodanno che già il due non valgono più, costruisce la stringa che rappresenta in forma leggibile il punteggio, tenendo conto della possibilità di load, e ritorna 30 e load, oppure il punteggio senza load, sotto forma di stringa, tra l'altro io ho scritto questo e non ho scritto questo, avrei anche potuto pensare così, punteggio un numero e ti restituisco quel numero, però questo non mi sarebbe molto piaciuto perché avrei avuto una funzione, o python non lo vieta, non lo impedisce, non si preoccupa, ma avrei avuto un metodo che a volte restituisce una stringa e a volte restituisci un intero, che dal punto di vista del metodo non ne avrà niente, dal punto di vista di chi usa quel metodo hai poi un valore che quando chiami il metodo e ti restituisci il valore non sai che cosa sia, e quindi devi gestirlo in entrambi i casi, quindi per pulizia, infatti l'ho anche scritto da parentesi nella documentazione sotto forma di stringa, cioè io ti restituisco sempre una stringa, perché? Perché tu mi chiamerai questo metodo che si chiama STR tra l'altro, quando vuoi effettivamente una presentazione da stampare, da inserire da qualche parte, non ti interessa farci dei conti sopra, se vuoi farci dei conti tipo la media o altro andrai a prenderti tu, di punto punteggio, il valore vero e proprio, chiami il metodo solamente quando lo vuoi formattare, quindi questo non è una buona idea, lo lascio commentato con scritto no. Quindi avendo definito questo metodo io posso tornare sul mio programma di test e dire va bene tutta questa cosa qua non mi serve più, perché posso fare semplicemente un print di, hai preso, cosa? Vuoto anoni di 2, punto, STR punteggio. Hai preso 30 lode. Quindi ovviamente quando io sto, che sto interpolando una stringa, io posso mettere un'espressione di qualunque tipo, compresa un'espressione che comprenda funzioni o metodi chiamati sugli oggetti, c'è problema. Non lo so, lui mi dice, io qua mi sarei aspettato, punto, perché probabilmente non ha, visto che Python è un linguaggio non tipizzato, l'editor fa il suo possibile per cercare di capire, di inventare o di quale tipo è quel voto analisi 2. Probabilmente in questo caso non ce l'ha fatta. Eh, a volte suggerisce, ma voto analisi 2, punto, e qui guarda, qua io me lo trovavo ad esempio, se fosse stato fuori da, va a sapere. Ha delle, ha delle, chiaramente non c'è mai la certezza perché solamente a runtime sai esattamente quale tipo di oggetto e quindi i metodi che avrà. Lui cerca di capire dalle istruzioni precedenti, si vede in questo caso non ha capito. Ok. Metodo 4, eh, punto 4, no? Creare un nuovo oggetto voto e verificare se la valutazione esiste già nel libretto, cioè uno stesso esame con lo stesso punteggio. Cioè sono talmente felici di aver passato un esame che lo voglio smettere due volte nel libretto, oppure mi sbaglio, mi dimentico che l'avevo già messo e cerco di inserirlo. Quindi questo richiede un metodo che controlla se un voto è già presente o no. Quindi avrò un oggetto voto che mi sono creato e chiedo al libretto, ma tu hai già questo voto dentro? Ok? Allora questo qua è un classico find, c'è o non c'è? Def, find voto, ma find non mi piace tanto perché find mi ricorda qualche cosa che restituisce un valore. Invece has, diciamo has. Hai il voto? has voto true, has voto false. Anche i nomi dei metodi, visto che Python non ha i tipi di ritorno, cerchiamo di scegliere i nomi dei metodi che ci aiutino a capire che il diamine verrà restituito. E quindi metodi che restituiscono i valori booleani, spesso has oppure is, sono dei buoni modi per suggerirlo. Allora cosa devo fare? Devo controllare, ah poi mi sono implicato una cosa prima, scusate, ma però adesso lo vediamo dopo. Devo controllare se il voto c'è oppure non c'è identico. Quindi anche qua potrò iterare for v in self punto voti, if v punto esame uguale voto punto esame, and v punto, cosa diceva? Stesso esame e stesso punteggio. Quindi è v punto punteggio uguale voto punto punteggio, and c'è anche la lode, v punto lode uguale voto punto lode. Allora, ritorno a vero, altrimenti ritorno a falso. Ah no, scemo, scusate, questo è un metodo di libretto, l'editor mi sta dicendo, guarda che l'attributo voti non c'è, come non c'è, l'ho forse mai usato, ma qui sono dentro la classe voto, invece questo metodo lo devo inserire nella classe libretto. Purtroppo lavorando in aula con lo zoom che vi permette di leggere, uno vede poche righe per volte, e quindi è facile perdere l'orientamento. Quindi se ho già nel libretto un voto con lo stesso nome, stesso punteggio, stessa lode, anche eventualmente con data diversa, non lo stiamo controllando, allora dico che l'ho trovato, altrimenti no. E quindi anche qua, 10 secondi per scrivere una documentazione che dice che ricerca, se esiste già, se nel libretto, esiste già un esame con lo stesso nome e lo stesso punteggio. Voto è l'oggetto voto da confrontare, return true, se esiste. Poi se siamo della categoria di pedanti scriviamo anche false se non esiste, se no il contrario di true ovviamente è false. Quindi in questo caso andiamo a testare questo metodo a esvoto, creando un nuovo voto, questa volta chiamiamo il nuovo 1. uguale voto, proviamo a rimettere il voto di fisica 1, controllarlo, con abbiamo detto 10 crediti, 25, false, e mettiamolo in data diversa, così controlliamo che non venga, che ne so, il giorno dopo. Non mi ricordo più se l'ho scritto era il 12, il 13, l'orale, eccetera, allora inserisco, mi sembra una cosa diversa. oppure posso prendere un nuovo 2, diciamo così sempre fisica, questa volta di fisica 2, o fisica 1 con un punteggio diverso, come volete. Allora potrò vedere se libretto, punto esvoto, nuovo 1, no, si chiama libretto, scusate, print 1, è un print secondo tentativo, così, ci ricordiamo quando stiamo stampando, lib, punto esvoto, nuovo 2. Quindi in questo caso mi stampa, nel caso 1 mi stampa true, nel caso 2 mi stampa false. E vabbè. Prima di andare avanti però, come dicevo prima, mi sono dimenticato nel punto 3 cosa fare se l'esame non viene trovato. Allora, nel caso, cosa succede se non trovo nulla? Allora, nel punto 2 e il punto 3 erano entrambi delle find, cioè ti do un criterio e tu mi ricerchi qualcosa. Nel punto 2, cercami un voto che abbia il punteggio del 28, posso ragionalmente non trovare nessuno, trovarne uno, trovarne cinque. Ciò che restituisce il metodo che abbiamo creato è una lista, e la lista può avere zero elementi, un elemento, cinque elementi. Quindi il fatto che non trovi nulla nel punto 2, non è un caso particolare, può capitare. Ho fatto una ricerca, non ho trovato niente, è chiaro che poi avrò una lista vuota, zero voti e va bene, quando itero su quella lista l'interazione non avviene. Ovviamente non posso cercare di calcolarsi una media sopra, perché non ho valori, però il massimo, il minimo, non posso fare operazioni su una lista vuota. Però una lista vuota è una cosa a cui siamo abituati, non è un errore, non è un'anomalia. Invece, nel secondo caso, cosa succede se io cerco il punteggio di un esame e sbaglio a scrivere il nome dell'esame? per dire nella foga scrivo analisi 3, anzi che analisi 2. E voglio sapere il punteggio. Allora, cosa può succedere? No, cosa può succedere? Lo possiamo vedere facendo run, ma la domanda vera che dobbiamo farci è cosa vogliamo che succeda? Allora, cosa succede adesso? Proviamo un po' a immaginarci cosa succede adesso. Il metodo find by esame, ovviamente non troverà nulla. Se il metodo find by esame non trova nulla, cosa fa il suo codice? Non fa return. Non fare return è un problema, è un errore di sintesi in Python? No. Un qualunque metodo, poiché non ho dichiarato a priori se quel metodo ritorna o no un valore, perché non lo posso fare, il metodo è libero di ritornarlo o no, secondo di cui mi piace. Questo vuol dire che chi ha implementato il linguaggio ha detto, guarda, se tu fai un return esplicito restituisco quel valore. Se tu non fai nessun return esplicito quando il metodo arriva al fondo, in automatico mi è restituito il valore none, nulla, che è l'equivalente del null in Java. Il null. Probabilmente in Java sarebbe un errore questo, perché il return devi averlo se è un metodo che restituisce un valore, non si può obbligare. Allora, quando lo chiamo find by examen con analisi 3, questo metodo, tranquillo, restituisce none e viene salvato in queste variabili. None è un valore. Quando è che si arrabbia? Si arrabbia sulla riga dopo quando prende questo oggetto e cerca di chiamare, che è un none, non è un oggetto vuoto, ma è un oggetto none, e cerca di chiamare un metodo su quell'oggetto lì. E infatti mi dice, non dentro la find by examen, ma la riga dopo, alla riga 16, mi dice, guarda, c'è un errore, attribute error, none type object is no attribute str punteggio. Ok? Attenzione che adesso lo sappiamo, non l'abbiamo fatto apposta, però a volte ci capita di passare un quarto d'ora a dire, ma no come, str punteggio ce l'ho, l'ho definito, andiamo a vedere, andiamo a vedere se ho scritto con 3G anziché 2, no? Perché in realtà l'errore vero, qui sta dicendo che non c'è il metodo, sì, è vero, il problema non è tanto che non c'è il metodo sull'oggetto libretto, sull'oggetto vuoto dove invece c'è, il problema è che non ho un oggetto di tipo vuoto, ma un oggetto di tipo NAN, quindi in questo caso l'errore è la prima metà del messaggio, l'oggetto su cui hai cercato di chiamare questo metodo non ha metodi, perché è NAN e quindi non ha nessun metodo, in particolare non ha questo metodo qua, e non è vietato avere un NAN, non è una null pointer exception, c'è un oggetto, hai chiamato un metodo, non c'è questo metodo, perché non è l'oggetto giusto, perché è un oggetto vuoto, quindi dobbiamo un po' imparare anche a decodificare i messaggi d'errore immaginandoci come la pensa Python sul nostro codice, no? Poi, per fortuna, io adesso ho la 3.11, ma ogni versione di Python migliora anche molto la diagnostica, quindi il dettaglio che scrive sui voti, cioè sui messaggi d'errore, la 3.12 è ancora meglio, però già la 3.11 mi indica esattamente qual è la parte della riga che devo leggere, in questo caso era facile. Quindi, se la nostra funzione, il nostro metodo lavora così, che è lecito, in uno, lo devo spiegare, e due, quando chiamo questo metodo devo essere cosciente che questo metodo può restituire voto, un voto o un non. Allora, subito dopo averlo chiamato farò if, no? se funziona così dovrò dire se voto analgi 2 is none, allora print nessun nessun voto trovato. Altrimenti stamperò il voto, quindi in questo caso mi scrive nessun voto trovato per analgi 3. ovviamente, come dicevo prima, adesso la non avevo ancora scritto il commento e questo è stato l'altro errore, non scrive subito il commento perché se no mi sarebbe venuto in mente voi sapete la la strategia della paperella, no? Che qualunque programmatore che si rispetti deve avere sulla propria scrivania una paperella di gomma o un altro peluche di vostro altro animale di vostro gradimento a cui spieghi cosa stai facendo va anche bene un amico un'amica eccetera non un compagno fidanzato fidanzata perché vi lasciano ma un oggetto inanimato a cui spiegate le cose e raccontare un altro quello che stai facendo ti fa subito ti aiuta molto a capire cosa si è dimenticato cosa è sbagliato eccetera io o voi e quindi dovendo spiegare a voi adesso non vi equiparò a paperella ma mi aiuta molto e infatti qua non vi ho raccontato non ci siamo spiegati cosa faceva questa funzione ci siamo dimenticati un caso particolare perché se no qua avrai scritto cerca l'esame a partire il voto scusa il voto a partire dal nome dell'esame e qui va tutto bene il primo il parametro esame è nome dell'esame da cercare e return è l'oggetto vuoto corrispondente all'esame al nome trovato dopodiché il verbo cercare il verbo trovare dentro di sé hanno il seme del dubbio se lo cerco magari lo trovo magari no oppure none se non viene trovato cioè se scrivo cerca cerca vuol dire lo trovo o non lo trovo mentre prima seleziona i soli i voti posso anche dire tutti e soli i voti che hanno un certo putteggio definito questa lista di oggetti tipo voto che hanno il putteggio specificato se vogliamo proprio essere pignoli può anche essere vuota ma il fatto che una lista sia vuota ci sta come il fatto che un numero sia zero vabbè fa parte di numero ma il fatto che cerco qualcosa e non lo trovo invece è un'anomalia quindi in questo caso ho documentato che questo metodo può restituire none il main dirigente attento che chiama un metodo che può restituire un none prima di usare quel valore va a verificare se è valido oppure no e siamo a posto questo è un modo di gestire le cose nel caso in cui l'operazione che mi hai chiesto di fare non ha esito positivo allora ti restituisco un valore particolare un valore sentinella un valore speciale che è facile riconoscere e facile quindi agire di conseguenza sto ribaltando la responsabilità del controllo sul chiamante quindi il chiamante deve ricordarsi di controllare questo è un modo l'altro modo è quello di obbligare il chiamante a controllare perché se io ritorno a none e tu non facessi questa print subito e questo oggetto voto non di due andasse a finire da un'altra parte lo inseressi in un dizionario lo stampassi lo inseressi in un file cioè alla fine quel none lì si propaga perché tu ti sei dimenticato di controllare allora io voglio obbligarti a controllare cioè se tu non controlli il programma non va avanti e come faccio? posso farlo sollevando un'eccezione dentro questo metodo qualora il dato non sia trovato quindi un'altra variante fatemela chiamare due così le abbiamo entrambe di file by esame che è la versione cattiva se non trova anziché restituire niente o se vogliamo sulla versione buona facciamola anche non serve a niente scrivere return none perché avviene in automatico ok? però se lo scriviamo è più evidente come dice una delle regole dello Zen di Python explicit is better than implicit essere espliciti è sempre meglio che essere impliciti ok? qua invece anziché fare return none generiamo un'eccezione raise un'eccezione di tipo ovunque che eccezione possiamo generare bene? genericamente potrebbe essere un value error oppure potremmo generare la stessa eccezione che genera un dizionario quando cerco di accedere una chiave che non esiste che è una key error cioè no genericamente possiamo dire value error in cui passo anche il messaggio esame scusate mettiamo anche il nome esame esame non presente quindi quindi nella prima versione quindi ho sostituito che cosa? un none con un'eccezione istruzione raise genera l'eccezione poi c'è il tipo dell'eccezione che mi serve posso scegliere una di quelle già predefinite e poi posso e opzionalmente indicare un messaggio che verrà stampato insieme all'eccezione allora nella versione che avevamo avevamo questa if ma proviamo a usare sotto l'altro metodo quindi voto analisi 2 uguale find by esame 2 e vediamo cosa succede e ci dimentichiamo di controllare il risultato ok? allora in questo caso cosa succede? succede che il programma poiché non ho controllato il risultato e il metodo genera un'eccezione questa eccezione non viene gestita dal mio programma chiamante e python interrompe l'esecuzione e mi dice value error esame analisi 3 non presente nel libretto quindi mi ha punito perché non ho controllato il valore di ritorno cioè in questo senso mi obbliga a controllare il valore di ritorno perché se per caso c'è un errore prima questo none va avanti e si propaga troverò l'errore la prima volta che cercherò di usare una variable none in questa cosa eravamo fortunati perché la usavamo la riga dopo ma se lo usassimo 100 righe dopo e addirittura una classe completamente diversa verrà da dire ma questo none da dove arriva? chi l'ha fatto? da dove è uscito? e dobbiamo fare il lavoro del detective al contrario qua invece è una cosa che non esco dal metodo se non l'ho trovato non torno neanche al programma chiamante che può far finta no il metodo dice l'eccezione è dentro find by esame che è stata sollevata però questo cosa vuol dire? vuol dire che il programma chiamante non potrà mai rischiare di fallire una ricerca e no certo che può rischiare di fallire una ricerca però deve essere cosciente che la ricerca può fallire cioè deve gestire le eccezioni try try except allora in questo caso potrò stampare guarda me l'ha indovinato nessun voto ho trovato quindi questi due frammenti di programma si comportano nello stesso modo tranne il fatto che qua devo ancora aggiungere una print scusatemi questa print qua la metto sotto quindi cosa faccio? linea 22 chiamo il metodo find by esame 2 con un esame che non esiste allora genera quel find by esame 2 abbiamo visto che genera l'eccezione questa eccezione viene catturata dal try except e vado a eseguire questa istruzione qua non eseguo l'istruzione alla riga 23 che fallirebbe perché non ho restituito nulla ma in realtà il metodo non è ancora arrivato al return neanche nel return non l'ha fatto si è interrotto a metà se invece l'esame viene trovato allora questo find by esame restituisce l'oggetto voto non genera nessuna eccezione stampo questo chiamo il metodo di sentire punteggi sull'oggetto voto e vado avanti felice sul resto del programma quindi che è la stessa cosa che faccio sopra cerco se restituisce NAN stampa questo se non restituisce NAN stampa l'esame vero e proprio se ci penso cioè se quando chiamo find by esame penso guarda che questo può fallire e due frammenti di codice si comportano in modo identico il secondo cioè la versione con eccezione mi blocca prima subito nel momento in cui la ricerca dovesse fallire quindi se il chiamante non fa i controlli mi chiamo e si blocca quando si accorge che la ricerca fallisce nell'altro caso si blocca quando qualcuno tenterà di usare il risultato di una cerca fallita che potrebbe anche essere non non troppo vicino ok qual è meglio non vi so rispondere non vi so rispondere dipende dai casi chiaro che a volte sembra un pochino aggressivo lanciare perché io magari sto cercando un esame non c'è è lecito che non ci sia però non sto dicendo che non sia lecito che l'esame non ci sia sto dicendo che ci sono due modi diversi di gestire il caso in cui non si trovi o con un'eccezione o con un valore speciale o con un non a seconda dei casi possiamo usare uno e l'altro l'importante è che il chiamante e il metodo siano d'accordo su cosa succede qua ovviamente nel metodo voto dobbiamo anche se non sbaglio me lo fa aggiungere no non si accorge da solo che quindi return l'oggetto voto corrispondente oppure l'eccezione un'eccezione value error se l'elemento non viene trovato e quindi l'abbiamo documentato purtroppo noi tendiamo a focalizzarci sul caso ma giustamente sul caso felice nel caso in cui l'operazione abbia successo tranquillamente e spesso ci dimentichiamo dei casi particolari che sono spesso più numerosi va bene sappiamo come gestirli basta che decidiamo come preferiamo gestirli ok dimmi allora lui la sua domanda è cosa cos'è che mi obbliga a gestire l'eccezione nulla dal punto di vista sintattico nulla se io chiamo questo metodo qua fuori da un try catch python non si arrabbia semplicemente eseguendo questo senza un try catch nel caso in cui dovesse generare l'eccezione blocca il programma l'eccezione viene sempre propagata dal metodo di chiamati verso l'alto verso il chiamante il chiamante del chiamante se qualcuno lo gestisce si ferma lì e poi il programma prosegue dall'except in avanti se nessuno lo gestisce arriva al top level del programma ed esce perché nessuno l'ha gestita però sintaticamente non sei obbligato a gestire l'eccezione come invece Dara definisce un throws e quindi quelle situazioni la puoi mettere solo dentro un blocco try no qua no ok come vedete sono tutti esercizi stupidini semplici ma anche ci sono protesti per ragionare sui vari aspetti così ci ritroviamo quando faremo cose più complesse 6 modificare il metodo append della classe libretto in modo scusate se prima il 5 verificare se esiste dato un nuovo voto un conflitto con il libretto cioè lo stesso esame ma in un punteggio diverso vabbè allora avevamo il metodo esvoto lo modifichiamo in un metodo esconflitto no quindi la stessa cosa def esconflitto ricerca se nel libretto esiste già un esame con lo stesso nome ma ma punteggio diverso quindi se trovo un esame il cui nome è lo stesso e il punteggio sia diverso e per chi ci mette un noto davanti a sta roba quindi hanno una logica leggermente diversa se il voto è uguale e il punteggio non è uguale perché il punteggio è fatto da due parti facciamo attenzione io ho scritto col not così sono più tranquillo altrimenti dovrei scrivere and punteggio diverso dal voto punto punteggio or l'ode è diverso dall'ode però lo scrivo qua sotto se l'esame è uguale se l'esame è uguale o il punteggio numerico oppure l'ode sono diversi perché negando un and mi salta fuori l'or del negati attenzione che questo è sbagliato sembra giusto ma è sbagliato perché perché l'operatore and come la moltiplicazione ha una priorità maggiore dell'operatore or come la somma e quindi lui lo interpreterebbe così cioè questa if è vera se ho l'esame è uguale ma il punteggio numerico è diverso oppure è vera se la lode è diversa quindi basta che la lode sia diversa anche se in questo caso la lode è dipendente dal punteggio quindi non si può verificare no scusate si verifica sì perché immaginate un esame di analisi frente a lode esame di fisica 21 senza lode tu avresti che il voto esame non è il nome dell'esame è diverso perché uno è analisi l'altro è fisica quindi questa parentesi è falsa ma poi avresti la lode di analisi sì e la lode di fisica no quindi questa parte è vera messa dentro un or rende tutta la if vera e quindi mi sono stati completamente sballati quindi per farlo giusto dovrei mettere le parentesi giuste per fare in modo che prima ho il voto è diverso e il voto è diverso parentesi quella parentesi vuol dire i voti sono diversi e i voti sono diversi vuol dire che o il punteggio o la lode o entrambi sono diversi questa è un'informazione unica che poi va messa in end col fatto che il nome sia lo stesso i punteggi sono diversi sopra lo scritto in modo leggermente diverso dicendo note sono uguali che ci sta sono equivalenti queste due forme la prima mi sembra più semplice da scrivere perché non devo andare a pensare alle precedenze alle negazioni delle congiunzioni però è la stessa cosa come vi viene in mente potete anche fare due if anni date una dentro l'altra chi se frega la soluzione non è mai unica quindi questo è il metodo a sconflitto adesso però mi dice di modificare il metodo append sempre di libretto in modo da evitare di inserire valutazioni duplicate oppure valutazioni in conflitto quindi il mio libretto sto chiedendo che si autoprotegga rispetto a tentativi di inserimento di voti che non hanno senso di esistere voti che sono duplicati ce l'avevo già oppure voti che sono diversi palesemente diversi per lo stesso esame e vabbè allora andiamo sulla classe libretto che siamo sempre qui e aggiungiamo eh andiamo a modificare il metodo append che era il primo che abbiamo fatto ci sembrava tanto facile però è anche tanto ingenuo qualunque cosa gli passa lui lo mette dentro allora andiamo a verificare a questo punto se il voto che mi hai chiesto di inserire non è in conflitto non è duplicato per farlo però ho il metodo esvuoto e il metodo esconflitto che ho appena scritto quindi anziché andarmi a reimplementare le cose posso usare quei metodi che ho già a patto e quindi vuol dire che io come oggetto libretto chiamo il mio stesso metodo mi serve lo chiamo è mio ovviamente chiamo il mio stesso metodo significa che devo ricordarmi self punto quindi vuol dire che se self punto esvoto divoto è falso e se il punto esconflitto di voto è falso allora appendi sto voto sì no questo è ci arrivo questo è riusare metodi che ho per trovare un'informazione che mi serve la sua osservazione è stata di dire ma guarda in realtà il controllo che stai facendo basterebbe che tu controllassi se c'è già un esame con lo stesso nome perché in realtà noi stiamo controllando se c'è un esame con lo stesso nome e lo stesso voto oppure un esame con lo stesso nome e voto diverso mettendo insieme i due basta controllare però il metodo per farlo non ce l'ho non ce l'ho ancora scritto quindi questa se vogliamo pigrizia uno o due metodi che ho già chiaro che faccio due volte la ricerca mi perdono se questo metodo diventasse critico dal punto di vista dell'efficienza allora converrebbe implementare un terzo metodo tipo es nome esame che va solamente a verificare il nome esame e così ce l'ho servisse anche per altro scopo qui lui propone facciamo un metodo più complicato di esvoto più complicato di esconfitto che faccia entrambe le cose secondo un terzo parametro mi sembra però complicarci la vita no? allora impareremo quando vedremo algoritmi di ricerca che è chiaro che l'efficienza e il tempo di esecuzione è fondamentale ma l'efficienza non è quasi mai dove pensiamo che sia o il tempo perso non è quasi mai dove pensiamo che sia nel senso che è chiaro che il metodo esvoto fa una ricerca nel libretto il metodo esconflitto fa un'altra ricerca nel libretto se io scrivesse un metodo che va semplicemente a controllare il nome farei una sola ricerca anziché due quindi sarà il doppio più veloce il doppio più veloce di quanto scusate quanti voti ci abbiamo nel libretto allora se stai dicendo che quell'elenco lì è un elenco di un milione di nomi allora ricercare una volta ricercare due volte mi fa una differenza percettibile qua no quanti dati ho quante volte viene chiamato il metodo append so che non è la soluzione più efficiente ma questo non mi pare conoscendo i dati che ci sono dentro non è di sicuro un'inefficienza che andrò a pagare quando faremo esercizi ricorsivi ci accorgeremo che invece l'efficienza cresce esponenzialmente cioè il tempo di esecuzione cresce esponenzialmente per le operazioni che faccio non tanto per per un uso ottimale quindi cosa voglio dire voglio dire che questa cosa qua sappiamo come ottimizzarla dal punto di vista delle prestazioni sì sappiamo renderla due volte più veloce sì quanto risparmieremo due microsecondi quanto tempo ci mettiamo a modificarla cinque minuti allora o questo metodo viene chiamato due microsecondi vuol dire cinquecentomila volte per cinque secondi venticinque mila due milioni cinquecentomila volte o non vale la pena ricordate che nell'efficienza ci sta anche il tempo del programmatore poi ve lo ricordate molto all'esame non vado a fare una cosa che ci metto cinque minuti se ce n'è una magari un pelo meno efficiente in cui ci metto trenta secondi il codice non è l'unica cosa è il processo che conta oltre all'altro aspetto è che queste due funzioni le abbiamo già debaggate le abbiamo già verificate le abbiamo già testate e funzionano se ne scrivo un'altra apposta per questo devo poi controllare perché magari ah sì ma questo è facile scrivo tre righe e mi dimentico qualcosa quindi ci sono tutta una serie di altri valori che stanno che non sono solamente ridurre il numero di codici e il tempo di ejecuzione poi è vero su un esempio stupido di questo genere si poteva fare ma non facciamoci distrarre da questo quando ci stiamo dimenticando del ramo else perché poi magari scriviamo cinque istruzioni per ottimizzare quello e ci dimentichiamo cosa dobbiamo fare cosa deve succedere se tento di inserire un voto non valido dove sai return on qui non funziona qui non funziona perché anche nel ramo bene quello qua funziona ritorno non lo stesso cioè questa funzione qua non deve ritornare nulla per sua natura non ritorna nulla e qui è sempre non il valore di ritorno e chi chiama un metodo che si chiama append mai si sogna di andare a controllare il valore di ritorno di quel metodo ma l'append della lista vediamo se non la dà l'augmentazione vediamo cosa restituisce l'append della lista quello di standard list 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 dove è? mi da un link ma non c'entra niente eccolo qua list metodo list append append mi fa gli esempi dai no non me lo spiego per bene va bene qui la documentazione non è non è in questo punto qua però il metodo append se non ricordo male quello di lista non restituisce nulla non siamo sicuri non siamo convinti verifichiamolo dai a uguale lista 1,2,3 quindi abbiamo creato una lista e posso fare append di 4 questa lista ok e vedo che il valore di ritorno mi da a b e non quindi il metodo append normale della lista restituisce da non di suo questo vuol dire che qualunque programmatore che veda un metodo append si aspetta che non restituisca nessun valore questo vuol dire che restituire non non ti serve a nulla non ti distingue il caso buono dal caso malato e non ti puoi aspettare che il programmatore vada a controllare il valore di ritorno perché è abituato che non lo sia un metodo che si chiama find si ho un valore un metodo che si chiama has si ho un valore booleano un metodo che si chiama append fa il suo lavoro come un metodo che si chiama print non mi aspetto di andare di dover controllare o di ricevere un valore di ritorno quindi vuol dire che qua l'unico modo di poter segnalare che qualcosa è andato storto è sparare un'eccezione quindi in questo caso un raise stiamo usando sempre il nostro value error e continuiamo a usarlo voto non valido allora qui sto sparando voto non valido ma volendo visto che ho questi due metodi potrei separare questa if in due if separate che ti dice voto non valido perché è un duplicato voto non valido perché è un conflitto volendo e noi stiamo giocando una partita scegliete voi lo sport sui due campi una partita ping pong su entrambi i lati del campo da un lato stiamo sviluppando dei metodi degli oggetti e vogliamo essere sicuri che questi metodi siano ben documentati ben fatti si comportino nel modo corretto dall'altro stiamo usando questi metodi e quindi dobbiamo sapere che valore di ritorno aspettarci che comportamento aspettarci in base alla documentazione degli stessi quindi la programmazione degli oggetti ci abitua ci obbliga a switchare tra queste due modalità di pensiero costruisco un oggetto che sia coerente autoconsistente con dei metodi fatti bene ben documentati versus devo fare un lavoro per fortuna degli oggetti che implemento dei metodi e li uso di mezzo ci sta la progettazione quali oggetti quali metodi che parametri che valori di ritorno che questa se vogliamo è la differenza o il valore aggiunto che abbiamo in questo corso rispetto a programmazione degli oggetti dove la vi davano tendenzialmente già le specifiche di come devono essere fatti gli oggetti qua ce lo costruiamo noi sulla base delle specifiche del problema che vogliamo risolvere che vuole anche dire è l'ultima parte che dico poi vi lascio che non esiste una soluzione unica o una soluzione giusta ciascuno di noi può trovare strade diverse può anche implementare metodi in modo diverso noi qua spendiamo un po' di tempo insieme anche per valutare le alternative per ragionarci anche su cose semplici ma per abituarci mentalmente a esplorare le alternative e poi sceglierne una che non è detto che sia più giusta o meno giusta di un'altra è quella che abbiamo scelto e con cui poi completiamo il programma ok ci mancano ancora due o tre cose in fondo che sono di nuovo qualche chicca che ci permetterà di esplorare i punti 7, 8 e 9 dovete cominciare a guardarli se noi li facciamo insieme lunedì per oggi vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti